E' un momento di particolare commozione in quanto l'immagine del crocifisso viene portata dal suo altare fino in piazza. E' un momento più commovente e dettato dal fatto che tutte le persone presenti in chiesa vogliono toccare il crocifisso, quasi ad implorare da lui la grazia. Toccando il crocifisso è come se si ottenesse la possibilità di acquisire quel perdono desiderato. Chi sono i 33 babbaluti? Sono dei penitenti, delle persone che per voto si accostano nel nascondimento al Cristo crocifisso per implorare anch'essi o il perdono per delle colpe passate o la grazia della guarigione spirituale o corporale per loro o per delle persone loro care. Ognuno oggi, se tu guardi i volti, ognuno di noi guarda lui. E ci portiamo dentro le ansie, le attese, le preoccupazioni, le gioie, le speranze perché da lui ci aspettiamo tutto. Già che l'uomo è un mistero a se stesso, allora oggi tu senti soltanto alcune note musicali. Ci sono tanti telefonini, compresi il mio, le macchine fotografiche, però perché ognuno vuole immortalare qualcosa di particolare. Insieme a lui vuole immortalare una preghiera, una richiesta d'aiuto, una grazia. Vuole immortalare questo perché non è tanto la fotografia e quindi l'immagine, quanto quell'immagine scolpita nel cuore di noi, impressa nel nostro cuore. Questo è il significato della festa e per non molto ci saranno pure i babbaluti, gli incappucciati, che sono 33 penitenti. Questi nostri fratelli e amici, uomini e donne che sembrano essere senza volto, ma in verità sono il nostro volto. Non solo questo, ma rappresentano anche il volto non volto di un'umanità che ha smarrito questo volto. Riusciremo a trovarlo questo volto solo guardando lui. Riusciremo a trovarlo questo volto.